L'Inps ha pubblicato le istruzioni per l'accesso alla pensione anticipata denominata opzione donna prevista dalla legge di bilancio 2023. Quest'opzione è riservata alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato almeno 35 anni di anzenità contributiva e un'età anagrafica di almeno 60 anni e che si trovi in una delle seguenti condizioni al momento della presentazione della domanda. Assistano da almeno sei mesi il coniuge o la parte dell'Unione Civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, un parente o una fine di secondo grado convivente nel caso in cui i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap grave abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti. Presentino una riduzione della capacità lavorativa accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile appare almeno al 74%. Siano lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali attivo alla data del 1 gennaio 2023 un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. Il requisito dell'età viene ridotto di un anno per ogni figlio fino ad un massimo di due anni per le lavoratrici che soddisfano le prime due condizioni. Il requisito anagrafico è di 58 anni per le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi anche in assenza di figli. La decorrenza del trattamento pensionistico avviene dopo 12 o 18 mesi a seconda che si tratti di lavoratrici dipendenti o autonome. La circolare numero 25 del 6 marzo 2023 pubblicata sul sito IMSS fornisce dettagli su modalità di presentazione della domanda, requisiti, condizioni di accesso e decorrenza.